13 giovani artisti siciliani selezionati nel corso delle audizioni che si sono svolte a Messina lo scorso mese di settembre dalla cantautrice Grazia Di Michele e dal critico musicale Red Ronny si esibiranno con i propri brani nei palcoscenici più conosciuti della nostra isola grazie al tour A Modo Mio. Stasera lo spettacolo fa tappa al Teatro Golden di Palermo. L'evento è promosso dall'associazione La Casa del Musicista che ha come presidente Luciano Fumia ed ha come ambasciatore il sindaco di Messina Cateno De Luca. Per la tappa di Palermo a salire sul palco tra le giovani proposte selezionate saranno il cantante messinese Valerio Pettinato in arte e babele e la cantautrice messinese Giulia Tavilla accompagnata alla chitarra d'Antonio Davide Pino. All'interno dello spettacolo non mancheranno le performance musicali di Cateno De Luca e Peter Pan. Il progetto della Casa del Musicista è un progetto giovanissimo ma che è realmente tanto ambizioso. Abbiamo lo scopo di realizzare questa struttura all'interno della quale i giovani artisti siciliani potranno trovare la possibilità di sviluppare i propri progetti e per far questo stiamo cercando di far conoscere il nostro progetto in giro. Cateno De Luca è il nostro ambasciatore principale per cui i proventi della vendita dei biglietti della serata vengono poi utilizzati per fare in modo di creare delle opportunità ai giovani ragazzi siciliani. Musica, solidarietà, talento e volontariato sono le parole chiave dell'avventura avviata dall'associazione La Casa del Musicista che aperta ancora ad ascoltare giovani talenti siciliani della musica per le prossime fasi del progetto A Modo Mio. Basta mettersi in contatto con noi, basta visitare il nostro sito internet e la casadelmusicista.it contattarci, gli faremo sapere quali sono le prossime iniziative che consentiranno ai giovani di avvicinarsi a noi. Abbiamo voglia di dare delle possibilità ai giovani artisti quindi faremo di tutto per fare in modo che possano partecipare in tanti e numerosi. Musica, solidarietà, 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 solidarietà Grazie a tutti.